Di Marguerite Ursenat Memorie di Adriano Voce di Lorenzo Pieri Prima di risalire verso il nord per regolare definitivamente i conti con i sarmati, rividi quieto. Il sanguinario di Cirene era ancora temibile. Il mio primo provvedimento era stato di sciogliere le sue colonne di esploratori numidi. Gli restava però il seggio in senato, il grado nell'esercito regolare e quell'immenso dominio nelle sabbie occidentali del quale egli poteva farsi, a suo talento, un trampolino o un asilo. Mi invitò a una caccia in misia, in piena foresta, e ingegnosamente macchinò un incidente nel quale, se avessi avuto minore fortuna o minore agilità fisica, senza alcun dubbio avrei perduto la vita. Ma era preferibile aver l'aria di non sospettar nulla, pazientare, attendere. Poco più tardi, nella mesia inferiore, quando la capitolazione dei principi sarmati mi consentiva di far progetti per un sollecito ritorno in Italia, uno scambio di dispacci cifrati col mio amico tutore mi informò che quieto, tornato di precipizio a Roma, aveva avuto un abboccamento con palma. I nostri nemici barricavano le loro posizioni, riformavano le loro truppe. Non era possibile sentirsi sicuri sino che quei due uomini tramavano contro di noi. Scrissi ad Attiano di agire. Quel vegliardo colpì come la folgore. Andò oltre i miei ordini e in un colpo solo mi sbarazzò di tutti i nemici dichiarati che mi restavano. Lo stesso giorno, a poche ore di distanza, Celso fu giustiziato a Baia, palma nella sua villa a Terracina, nigrino a Faventia, sulla soglia della sua casa di campagna. Quieto, perì in viaggio, uscendo da un conciliabolo con i suoi complici sul predellino della carrozza che lo riportava in città. Un'ondata di terrore si riversò su Roma. Il mio vecchio cognato serviano, che in apparenza si era rassegnato alla mia fortuna, ma che avidamente contava sui miei errori futuri, dovette provarne un impulso di gioia, senza dubbio la voluttà più intensa della sua vita. Tutte le voci sinistre che correvano sul mio conto trovarono un nuovo credito. Mi furono comunicate queste notizie sul ponte della nave che mi riconduceva in Italia. Rimasi annientato. Essere liberato dei propri avversari è sempre una soddisfazione, ma il mio tutore aveva mostrato l'indifferenza dei vecchi per le conseguenze lontane del suo gesto. Aveva dimenticato che toccava a me vivere più di vent'anni con le conseguenze di quelle morti. Pensai alle proscrizioni di Ottaviano, che avevano macchiato per sempre la memoria di Augusto, ai primi crimini di Nerone, ai quali altri crimini erano seguiti. Riandai con la mente agli ultimi anni di Domiziano, quell'uomo mediocre, niente affatto peggiore d'un altro, disumanato quasi dalla paura inflitta e subita, e infine morto in pieno palazzo come una fiera accerchiata nei boschi. Già mi sfuggiva dalle mani la mia vita pubblica. La prima riga dell'iscrizione recava, profondamente incise, parole che non avrei cancellato mai più. Il Senato, quel gran corpo tanto debole, ma che bastava perseguitare per vederlo diventare potente, non avrebbe dimenticato mai che erano stati giustiziati sommariamente per ordine mio quattro uomini usciti dai suoi ranghi. Così, tre odiosi intriganti e un brutto feroce avrebbero fatto la figura di martiri. Intimai immediatamente ad Attiano di raggiungermi a Brindisi, per rispondermi delle sue azioni. Mi aspettava a due passi dal porto, in una delle camere di quella locanda volta a Oriente, dove un giorno era morto Virgilio. Venne, zoppicando, a ricevermi sulla soglia. Soffriva ad una crisi di gotta. Non appena solo con lui lo rimproverai aspramente. Un regno che volevo moderato, esemplare, si iniziava con quattro esecuzioni sommarie, delle quali una soltanto era indispensabile, alle quali per di più si era incautamente trascurato di dare una sembianza di legalità. Quell'abuso di potere mi sarebbe stato tanto più rimproverato quanto più in seguito mi sarei messo di impegno a mostrarmi clemente, scrupoloso o giusto. Se ne sarebbero serviti per provare che le mie cosiddette virtù non erano che una maschera, e mi avrebbero fabbricata una banale leggenda di tiranno che forse mi avrebbe seguito sino alla fine della storia. Confessai la mia paura. Non mi sentivo esente dalla crudeltà più che da qualsiasi altra tara umana. Accettavo perfino il luogo comune che vuole che il delitto chiami delitto, l'immagine della belva che ha assaggiato il sangue. Un vecchio amico, la cui lealtà mi era parsa a sicura, si emancipava già. Profittava delle debolezze che aveva creduto d'osservare in me. Sotto l'aspetto di rendermi un servigio aveva fatto in modo di regolare un conto personale, con nigrino e con palma. Comprometteva la mia opera di pacificazione, mi preparava infine il più tetro dei ritorni a Roma. Il vecchio chiese il permesso di mettersi a sedere, posò su di uno sgabello la gamba avvolta in vende, e io, mentre continuavo a parlare, andavo ricoprendo con una coperta quel piede infermo. Mi lasciava sfogare con il sorriso d'un grammatico che ascolta un alunno cavarsela abbastanza bene in una recitazione difficile. Quando ebbe finito, mi domandò, con tono pacato, che cosa contavo di fare dei nemici del regime. Se era necessario, si sarebbe potuto fornire prove del fatto che quei quattro uomini avevano tramato la mia morte. In ogni caso, sarebbe stato loro reale interesse il farlo. Non c'è cambio della guardia che non comporta le sue epurazioni, e se era incaricato lui, di quest'ultima, per lasciarmi le mani nette. Se l'opinione pubblica reclamava una vittima, non c'era nulla di più semplice che destituirlo dalla carica di prefetto del pretorio. Questa misura l'aveva prevista, mi consigliava perfino di adottarla. E se per consigliarmi il Senato bisognava andare oltre, mi avrebbe approvato anche qualora mi fossi deciso a relegarlo o esiliarlo. Attiano era stato per me il tutore al quale si spillano quattrini, il consigliere dei giorni difficili, la guida fedele, ma era la prima volta che io guardavo con attenzione quel viso molle dalle guance ben rase, quelle mani rattrappite, tranquillamente incrociate sul pomo d'un bastone debano. Le diverse componenti di quella prospera esistenza di uomo mi erano sufficientemente note. La moglie, che gli era cara e la cui salute era tuttora precaria, le figlie maritate, i loro bambini, per i quali egli nutriva ambizioni modeste e tenaci, così come erano state le sue. Il suo gusto per la cucina raffinata, la passione per i cammei greci e le danzatrici giovinette. Eppure aveva dato a me la precedenza su tutte queste cose. Da oltre trent'anni il suo primo pensiero era stato di proteggermi, di servirmi. E io finora non avevo dato la precedenza a null'altro che a progetti, a idee, tutt'al più a una immagine futura di me stesso. La devozione comunissima di quell'uomo mi appariva prodigiosa, insondabile. Nessuno ne è degno e tuttora non riesco a spiegarmela. Seguì il suo consiglio, fu destituito dalla carica. Il suo lieve sorriso mi dimostrò che s'aspettava di essere preso in parola. Sapeva bene che non c'era al mondo sollecitudine intempestiva verso un vecchio amico che avrebbe potuto trattenermi dall'adottare il provvedimento più saggio. Quel sottile politico, d'altronde, non m'avrebbe voluto diverso. Non va neppure esagerata l'entità della sua disgrazia. Dopo qualche mese di eclissi, riuscì a farlo entrare in senato, l'onore supremo che potessi accordare ad un uomo dell'ordine equestre. Ebbe una vecchiaia facile, da ricco cavaliere romano, garantito dall'influenza che gli valeva la sua perfetta conoscenza delle famiglie e degli affari. Spesso sono stato ospitato da lui nella sua villa sui colli albani. Non importa, come Alessandro alla vigilia di una battaglia, prima di entrare a Roma avevo sacrificato alla paura, e mi accade di contare a Teano nel numero delle mie vittime.